Un risultato, non dico a sorpresa, perché avete fatto la vostra partita, però vincere al 94esimo è una bella soddisfazione. Sì, penso di sì. Noi abbiamo dato un segnale forte, siamo venuti qua con tre punte davanti, perché io al mio squadro sono stato chiaro. Io volevo vincere la partita oggi, poi accettavo qualsiasi risultato del campo. È normale che vincere all'ultimo, quasi mi dispiace per gli altri, perché io ho perso tre partite dal 90esimo al 95esimo e so come ci si sente. Forse è risultato più giusto che il pareggio oggi, devo essere onesto. Però per una volta è andato bene anche a noi. Mister Lilli, non ci sono domande da fare. Perdere in questo modo fa ribollire il sangue, perché il Cattolica ha fatto una bella partita, ha dimostrato concretezza, eccetera. Poi però il fatto ha detto che non si doveva prendere neanche un punto. Guardi, in questo momento faccio fatica a fare delle affermazioni, a dare delle spiegazioni, perché me la voglio riguardare bene, ma sai, dopo una sconfitta così si fa fatica a pensare anche alle cose. Quindi bisogna un attimino stare tranquilli, stare calmi, perché non è la prima volta che perdiamo la partita e poi fischiano la fine. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Luca Rizzitelli, c'è veramente molto amaro. Perdono una partita al 95esimo, dopo aver condotto una bella gara per tutto il primo tempo. Avete preso il gol, avete reagito, hai pareggiato col tuo rigore. Però poi giocare bene e perdere crea un amaro che è difficile da recuperare. Però bisogna recuperare perché domenica c'è il Forlì. Sì, ancora una volta purtroppo abbiamo espresso il nostro calcio, abbiamo fatto la nostra partita. Però come ho detto ancora una volta, al minimo errore in questo momento, lo prendiamo gol. E purtroppo anche a 30 secondi dalla fine bisogna avere l'atteggiamento cattivo, determinato, per portare a casa il risultato che sia un pareggio, che sia la vittoria. Dobbiamo migliorare. Fra tre giorni abbiamo un'altra partita molto importante. Come ho detto nell'intervista scorsa, Forlì, Bagnolese o chi sia, noi dobbiamo portare a casa punti e basta.